Musica Ben trovati con il TGLIS di Telebari. Una rapina è stata compiuta nell'ufficio postale di via Vittorio Veneto al quartiere Carbonara di Bari. Secondo le informazioni raccolte il colpo sarebbe stato portato a termine da due persone. Uno dei rapinatori con il volto nascosto da un casco integrale e pistola in pugno avrebbe fatto eruzione e minacciando i dipendenti si sarebbe fatto consegnare denaro contante prima di fuggire con il complice che a quanto pare lo aspettava all'esterno a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari stanno indagando per tentare di risalire alla identità dei rapinatori anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza ancora da quantificare il denaro sottratto dall'ufficio postale. Con grande gioia abbiamo accolto la notizia che Papa Francesco sarà presente in Puglia in occasione del G7. La sua visione alta delle cose, la sua capacità di analisi del presente, il suo incessante impegno per la costruzione di pace offriranno un contributo fondamentale al dibattito internazionale. Per noi tutti sarà un'occasione importantissima di riflessione, dialogo tra popoli e crescita collettiva. Queste le parole del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E adesso le altre notizie del TgLis. Ricevere direttamente sulla app Io informazioni e aggiornamenti sulle domande presentate per vari servizi comunali, essere avvisati in prossimità della scadenza della Tari o ricevere avvisi di pagamento come quelli relativi a multe o sanzioni e pagare direttamente sul proprio smartphone. Sono alcune delle innovazioni introdotte grazie all'incremento dei servizi del Comune di Bari integrati su Io, la app dei servizi pubblici che rappresenta il punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali. Inoltre, ampliando la propria offerta multicanale di servizi digitali, il Comune ha attivato sul proprio portale istituzionale una pagina web dedicata alle segnalazioni inviate dai cittadini. Dal 2 al 4 maggio tornerà nei municipi di Bari una copia benedetta del quadro di San Nicola accompagnata da mostre ed esibizioni pensate per bambini e per famiglie. Un appuntamento per far vivere l'atmosfera della festa del Santo Patrono nei quartieri. L'icona del Santo partirà dal quarto municipio giovedì 2 maggio a partire dalle 10 a Carbonara mentre nel pomeriggio alle 17 si sposterà nel secondo municipio all'interno del Parco 2 Giugno. Venerdì 3 maggio sarà la volta del quinto municipio con l'arrivo del Santo nella chiesa di San Nicola a Catino. Infine, sabato 4 maggio, il quadro approderà nella parrocchia Madre della Divina Providenza al quartiere San Paolo. Da lunedì 29 aprile 2024 al 6 maggio 2024 chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo elati in viale Iapigia nel tratto compreso tra via Archita e via Pitagora per via dei lavori di Acquedotto Pugliese di costruzione di impiantistica fognaria. L'ordinanza è stata disposta dalla ripartizione infrastrutture, viabilità e opere pubbliche. dal lunedì 29 aprile sarà interdetto il traffico nel tratto di via Dante compreso tra via Argiro e via Andrea Dabari per consentire i lavori di manutenzione straordinaria sulle basole di via Sparano. Nel corso del cantiere sarà rinforzata la tenuta delle basole attraverso l'impiego di materiali performanti la cui posa necessita di qualche giorno per ottenere una resa migliore. I lavori proseguiranno per alcuni giorni con la finalità di terminare quanto prima per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla Regione. Incidente a Brindisi, una donna è stata travolta da un'auto guidata da un'altra donna mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo via Appia. Secondo quanto si è appreso, la vittima di 60 anni è stata trasportata di urgenza all'ospedale Perrino e verserebbe in condizioni gravi. Fermata per i test tossicologici, la donna la guida della vettura che ha investito la sessantenne. Si tratta di una quarantacinquenne che guidava una Fiat Punto. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente su cui sono in corso i rilievi della polizia. Slitta il processo che sarà celebrato con rito abbreviato per il 45enne fasanese che il 20 ottobre scorso massacrò di botte l'ex compagna davanti al figlioletto di 10 anni. Un impedimento del difensore dell'imputato accusato di tentato omicidio e lesioni personali ha fatto slittare l'udienza. Il difensore ha chiesto e ottenuto per il suo assistito l'ammissione a rito abbreviato condizionato all'acquisizione delle indagini difensive. Il processo sarà celebrato dinanzi al GUP del Tribunale di Brindisi Simone Orazio. La polizia ha arrestato un 63enne di origini baresi ma residente a Manduria perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di due donne che lo avevano denunciato facendo scattare le procedure del cosiddetto codice rosso. In seguito alla segnalazione di un caso di molestie gli agenti sono intervenuti trovando l'uomo per strada in forte stato di agitazione con i pantaloni abbassati. La presunta vittima che in precedenza aveva querelato l'uomo per atti persecutori ha raccontato ai poliziotti che il 63enne aveva ripreso a perseguitarla minacciandola di morte e denudandosi ma nonostante lo spavento era riuscita a riprendere la scena con un telefonino. Quattro persone sono state arrestate poste ai domiciliari dalla polizia di Cerignola con l'accusa di ricettazione in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Foggia. L'indagine avviata nel 2022 ha portato ad individuare un'attività commerciale fittizia sottoposta a sequestro penale all'interno della quale i destinatari della misura cautelare avrebbero trasferito parti di vetture di provenienza furtiva. E con il Tg Disse è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie.